Anticipazioni Beautiful dal 4 al 9 marzo. Liam è determinato a non cedere e permettere a Thomas di influenzare Opa a suo piacimento. Di conseguenza ha scelto di affrontare direttamente Douglas e convincerlo a tornare a casa con lui e sua madre. Tuttavia, il bambino non sarà persuaso. Esprime il desiderio di rimanere nella casa del nonno, dove si trova bene e ha ristabilito un legame con suo padre. Inavvertitamente, Douglas sta favorendo Thomas e mettendo Liam in una posizione difficile. La sua gioia e il suo divertimento a Villa Forrester stanno persuadendo Opa che la decisione migliore sia concedere spazio al suo ex e rinnovare la fiducia in lui. Opa è stata sconvolta nel trovare un manichino che assomigliava a lei nello studio di Thomas. Nonostante ciò, ha accettato le spiegazioni del ragazzo, credendo sinceramente che non ne fosse a conoscenza. Ora è convinta che Thomas sia cambiato radicalmente, diventando un padre e un uomo migliore, capace di affrontare i suoi demoni e i suoi errori passati. Questa convinzione la porterà a difenderlo strenuamente quando Brooke lo accuserà di essere instabile e irresponsabile. Opa si rifiuterà categoricamente di volgere le spalle a Thomas, chiedendo a sua madre di smetterla di criticarlo. Prima di continuare, abbiamo una piccola richiesta. Se non l'hai già fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Questo semplice gesto non ha alcun costo per te ma è fondamentale per noi. Ti permetterà di essere sempre aggiornata sui nostri ultimi video e ci darai un grande supporto. Grazie di cuore. Opa è convinta che Thomas sia davvero cambiato e sia impegnata a fidarsi di lui, sostenendolo nella sua decisione di prendersi cura di Douglas insieme a lei, nonostante non vivano più come una famiglia. Tuttavia, non è a conoscenza del fatto che Thomas sia nuovamente ossessionato da lei e il loro amore impossibile, né che abbia sabotato Brooke per ottenere il suo sostegno e abbia facilitato il ritorno di Ridge con Taylor. In definitiva, Thomas Forrester non è l'uomo senza macchia che Opa crede e continuerà a credere, almeno per un po'. Liam sta cercando di persuadere Douglas a ritornare a casa con lui, ma il bambino non ha nessuna intenzione di lasciare la casa del nonno. Liam si aggrappa alla speranza di trovare supporto da parte di Hope, ma purtroppo sembra che la ragazza sia completamente influenzata da Thomas. La situazione lo sconcerta ulteriormente quando trova Hope impegnata come modella per il figlio di Ridge, mettendolo totalmente fuori equilibrio. La sua gelosia aumenta quando vede Douglas abbracciare affettuosamente sia sua madre che suo padre, felice di poter trascorrere del tempo insieme nella sontuosa villa di Eric. Nel frattempo, a casa di Brooke, Katie confida alla sorella la decisione di Bill di riconquistare la maggiore delle sorelle Logan. Sebbene sia delusa, lascia trapelare di aver trovato conforto in qualcun altro. Mentre Sheila cerca di sedurre Dickon per distoglierlo da Brooke, Eric conclude un affare con Lauren Fenmore, durante il quale discutono anche di Carter e delle sue malefatte. Nel frattempo, Hope si prepara per il grande giorno della sfilata ed è entusiasta della collaborazione con Thomas. Anche quest'ultimo è felice della situazione e ne parla con Steffi. La ragazza inizia a sospettare che suo fratello sia ancora ossessionato da Hope e gli consiglia di fare attenzione, invitandolo a non compiere azioni di cui potrebbe pentirsi. Finn si unisce alla conversazione e ricorda al cognato che Hope è sposata con Liam. Liam è profondamente preoccupato per Hope e, dopo aver discusso nuovamente con Brooke della situazione, affronta per l'ennesima volta sua moglie. Cerca di farle capire che Thomas è una minaccia per la loro famiglia e la esorta a considerare gli eventi passati tra loro. Implora Hope di prendere precauzioni e di convincere Douglas a tornare a casa con loro, cercando di ottenere da lei una promessa in tal senso. In seguito, si confida con suo padre, il quale gli assicura il suo sostegno per non perdere terreno nel matrimonio. Il giorno della sfilata è finalmente giunto e sia Hope che Thomas sono entrambi tesi. Thomas è fiducioso che l'evento sarà un grande successo e attribuisce il merito soprattutto alla sua talentuosa collega. Nel frattempo, Steffi, dopo aver avvertito suo fratello e discusso con Finn della situazione tra lui e Hope, accoglie calorosamente gli ospiti e ringrazia Carter, Justin e Katie per il loro eccezionale lavoro. Nel frattempo, Liam torna alla Forrester per comunicare a sua moglie che è estremamente orgoglioso di lei ma che non può più ignorare la realtà. Non sarà in grado di vederla sfilare accanto a Thomas e di applaudire. Pertanto, decide di non partecipare all'evento. Liam lascia improvvisamente la sfilata, lasciando sua moglie, incapace di vederla camminare accanto a Thomas sulla passerella. Katie nota l'assenza di Liam mentre Hope, speranzosa che il marito possa ricomparire, lo cerca tra il pubblico, ma in vano. Douglas e Thomas sono entusiasti per il successo di Hope, che brilla sia come padrona di casa che come modella per un giorno, indossando il capo principale della nuova collezione. Nel frattempo, Bill e Wyatt scoprono l'assenza di Liam e il padre rimprovera severamente suo figlio per aver abbandonato il grande giorno di Hope. Ridge presenta con orgoglio Hope e il capo principale della nuova collezione. La giovane sale sulla passerella e il suo trionfo è indiscutibile. Nel frattempo, a il giardino, Bill riflette e capisce le motivazioni dietro la fuga di Liam dalla Forrester, mentre Wyatt lo esorta a tornare dalla moglie e a chiedere scusa. Alla fine della sfilata, l'entusiasmo è palpabile, anche se una leggera tristezza e preoccupazione sembrano alleggiare l'intera squadra della Hope for the Future. L'assenza di Liam non è sfuggita a nessuno. Brooke, furiosa, affronta Liam allo chalet chiedendogli spiegazioni sul suo comportamento. Il giovane spiega alla suocera di non aver potuto sopportare di vedere Thomas e Hope abbracciarsi, confessando di sentirsi esausto e geloso nel vedere sua moglie tra le braccia del Forrester. Bill incita il figlio a combattere per il suo matrimonio mentre Steffi e Finn, delusi da Liam, temono che ciò che è accaduto possa portare a nuovi problemi. Ridge congratula Hope e le esprime gratitudine per aver creduto nel cambiamento di suo figlio e per averlo sostenuto nella sua nuova avventura. Ora diamo uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful direttamente dall'America, sarà Steffi a uccidere Shayla? Tra la Forrester e la Carter si è consumato l'atto finale, e l'aggressione, se così possiamo chiamarla, della prima, ha risvegliato la belva che giaceva latente dentro la malvagia Shayla. La donna non ha più tollerato di rimanere passiva di fronte alle provocazioni subite. Stufo di sopportare ingiustizie e reprimere la sua rabbia, ha deciso di prendere una rivincita totale attaccando Steffi, con l'intenzione di eliminarla definitivamente. Shayla ha fatto irruzione a casa di Steffi, osservandola da una finestra e preparandosi a colpire a sorpresa. Purtroppo per lei la Forrester, consapevole delle precedenti minacce della Carter, è rimasta vigile. Steffi ha percepito la presenza della sua nemica e l'ha individuata, costringendola ad emergere dall'oscurità. Shayla ha cercato di attaccarla, forse cercando di soffocarla, ignorando il fatto che la giovane e odiata nuora aveva un coltello. Steffi, senza esitazione, ha affrontato la minaccia, conficcando il coltello direttamente nel cuore di Shayla. Poi, il marito si trova a riflettere sul fatto che l'unico modo per liberarsi di Shayla sembrava essere quello di vederla morta. E i suoi desideri si sono avverati, peccato che ciò sia accaduto a causa sua. Steffi e Finn non concorderanno sulle recenti vicende e il dottor Finn confesserà alla moglie di non aver mai creduto nella redenzione della madre, ma neanche di aver desiderato la sua morte. Questo porterà a una profonda frattura tra di loro, che potrebbe essere proprio ciò che Shayla desiderava veramente. Tuttavia, sarà davvero morta la Carter? Secondo le ultime anticipazioni sembra di sì, ma con la donna più pericolosa di Beautiful nulla è mai certo, nemmeno la morte. Beautiful anticipazioni americane, Steffi e Finn in guerra dopo la morte di Shayla. Aria di divorzio a casa Forrester. La resa dei conti è finalmente avvenuta e tra Shayla e Steffi si è consumato l'atto finale. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, la bella Forrester è stata vittima di un agguato da parte della Carter, per autodifesa, ha finito per pugnalare la sua rivale, causandone la morte. Steffi si troverà ad affrontare l'interrogatorio della polizia e dovrà difendersi dall'accusa di omicidio. Fortunatamente, Ridge e Thomas le offriranno il loro sostegno, rassicurandola che le cose andranno per il meglio. Tuttavia, Finn non riuscirà ad essere altrettanto empatico con la moglie e sembrerà accusarla di aver commesso un gesto irreparabile. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn sarà profondamente sconvolto dalla morte di Shayla. Il dottore non riuscirà ad abbracciare e confortare la moglie, poiché sarà distratto dalla scena del delitto e dalla pozza di sangue sul pavimento. Rimarrà senza parole per un lungo periodo, ripensando a tutte le volte in cui la Carter gli ha manifestato amore e affetto. Finn comincerà a dubitare delle azioni di Steffi, ritenendo che non abbia agito correttamente. Nonostante tutto ciò che Shayla ha fatto alla sua famiglia, il dottore avrebbe preferito vederla in prigione piuttosto che morta. Sapere che è finita così per colpa della donna che ha sposato sarà devastante per Finn, mettendo in crisi le sue convinzioni. Le anticipazioni americane rivelano che Finn non riesce a venire a patti con la morte di Shayla e con il coinvolgimento di Steffi nel suo decesso. Il ragazzo manifesta segni di fastidio nei confronti delle azioni della moglie e ricorda con rabbia che la Carter era anche sua madre. Questo atteggiamento suggerisce che Finn potrebbe non essere in grado di perdonare facilmente Steffi, nonostante le difficoltà che la ragazza ha affrontato a causa di Shayla fin dall'infanzia. Inoltre, Finn potrebbe avvicinarsi a Hope, che sembra aver compreso il legame emotivo che unisce il ragazzo a Shayla e le sue lotte interiori tra famiglia e madre naturale. Questo potrebbe portare a tensioni nella relazione tra Finn e Steffi, aprendo la strada a un possibile divorzio. Steffi potrebbe trovarsi costretta a dire addio a suo marito e a vederlo trovare conforto in un'altra donna, proprio quella con cui ha condiviso una lunga storia, ovvero Hope. Beautiful anticipazioni americane, Shayla Carter è davvero morta. La resa dei conti tra i Forrester e Shayla sembra aver finalmente avuto luogo, con Steffi che si è liberata della loro nemica numero uno. La ragazza ha accoltellato Shayla e dovrà ora convincere la polizia di aver agito per legittima difesa, oltre che cercare di salvare il suo matrimonio con Finn. Tuttavia, Finn sembra non essere in grado di perdonarla, e tra di loro potrebbe scoppiare una guerra che porterà al divorzio, e forse all'avvicinamento di Hope nella vita del dottore. Tuttavia, una domanda persiste, Shayla è veramente morta? Le sop americane, tra cui Beautiful trasmessa su Canale 5, sono note per colpi di scena e resurrezioni inaspettate. È quindi plausibile chiedersi se la rossa abbia effettivamente lasciato questo mondo. Potrebbe essere che Shayla abbia simulato la sua morte per mettere Steffi e Finn l'uno contro l'altro, e questo è un'ipotesi altamente probabile. Infatti, ci sono alcune incongruenze nei dettagli degli eventi. Perché Shayla si sarebbe lanciata contro Steffi nonostante quest'ultima avesse un coltello in mano? E soprattutto, chi è la persona del passato che la Carter ha accennato di aver incontrato prima del suo scontro con la figlia di Ridge? È probabile che ci sia qualcosa di più dietro questa situazione. Sostenere la tesi della morte di Shayla e riconoscerne il momento di dirsi addio è l'interprete stessa del personaggio, Kimberly Brown. L'attrice ha condiviso molte storie riguardanti la morte del suo personaggio e ha persino ringraziato i fan per tutti gli anni trascorsi insieme. In precedenza, l'artista aveva condiviso un video in cui la si vede leggere un copione e mostrare sorpresa o spavento per quanto scritto. Tuttavia, nonostante questo addio apparente, non tutti sono convinti che sia definitivo. Shayla potrebbe sparire dalle trame per un lungo periodo, lasciando che la sua morte venga accettata e che il suo piano si compia. La Carter potrebbe aver orchestrato tutto per scatenare Finn contro Steffi, certa che il figlio non volesse sua madre morta. E potrebbe esserci qualcuno del suo passato, come il Detective Baker, ad aiutarla, magari somministrandole qualcosa per farla sembrare morta. Considerando che Shayla è un'ex infermiera e ha esperienza come assassina, queste possibilità non sono da escludere. Quel che è certo è che Steffi e Finn saranno in guerra e che probabilmente finiranno per divorziare. Liam e Hope potrebbero cercare di confortarli, mentre potremo assistere a un ritorno di Thomas in uno stato di instabilità mentale. Per un po', non vedremo Shayla, forse mesi, forse anni, o forse anche per sempre. Kimberly Brown sembra convinta di non tornare, ma gli attori sono maestri nell'interpretare ruoli e non possiamo escludere ulteriori sviluppi prima di dire addio per sempre a un personaggio che ha segnato la storia di Beautiful e rimarrà uno dei cattivi più memorabili delle soppopera. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete, voglio il seguito e nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!